Una settantina di interventi in neanche un anno a tanti ammonta il lavoro dei volontari e delle volontarie del soccorso alpino di Asiago. L'ultimo in ordine di tempo risale a lunedì scorso, quando venne recuperato il corpo senza vita della 39enne Cesenate, precipitata vicino all'altark notto. Purtroppo non si tratta più di episodi isolati, dicono gli esperti. Il perché di questi continui incidenti, con esito purtroppo anche mortale, soprattutto negli ultimi tempi? Ma diciamo che c'è stata una riscoperta delle montagne e delle nostre montagne. Abbiamo una grande affluenza di turismo e questo è il gioco dei numeri. Tante persone, tante persone in montagna, nei boschi e di conseguenza le probabilità che qualcuno si trova in difficoltà o abbia dei problemi aumenta. Abbiamo riscontrato oltretutto un approccio alle montagne non adeguato. C'è una parte che è preparata ma una grande fetta di persone non sono preparate all'escursionismo, non sono preparate o non conoscono appunto l'ambiente montano e dove si stanno camminando, fanno le gita e spesso, ahimè, questo comporta ad arrivare insomma a situazioni di pericolo e di difficoltà. Lunardi dà precisi consigli a cominciare dall'importanza di essere sempre in compagnia nelle escursioni montane. Ci vuole una preparazione propria, un abbigliamento adeguato, scarponi adeguati, uno zaino preparato. Dico sempre, ricordatevi bene, anche per un'escursione di mezza giornata, soprattutto il pomeriggio, preparate sempre lo zaino con l'idea o comunque consci di poter stare fuori la notte. Noi come Soccorso Alpino abbiamo realizzato in ambito nazionale un'app che si chiama GeoResc e quello dà la possibilità o comunque aiuta ad avere la propria posizione e anche allertare i soccorsi. Il fondamentale resta sempre e comunque un ingrediente basilare. Bisogna avere veramente buon senso, il classico buon senso è quello che ti passa la mamma a casa, fai attenzione, stai attento, se vedi che non ce la fai o che hai dei problemi, rinuncia.